qui per poter aprire questa porta dovete con la frusta frustare questa statuina qui qua vedo che ci stanno praticamente i soliti tubi di ferro quindi suppongo che bisognerà ok ho sbagliato ok praticamente torno indietro e avendo davanti la cosa rossa che avevo appena attivato qua rompendo poi i vasi ho un sottopassaggio segreto alla fine di questo tunnel trovate questa leva che va tirata quindi tornate poi indietro nel vario percorso vi ritroverete poi davanti alla piazza dove praticamente c'è il ponte per attivare il ponte dovete saltare e bruciare questa ragnatela è un po' difficile ci ho messo un po' di tempo però poi ci riuscite interessante La distanza sembra il nome, fuori posto. Entriamo in questo buco. Saluti. Sarà divertente per tutti. La distanza sembra. Allora, la spada che avete appena preso dovreste darla a questo angelo. Vediamo se funziona. Perfetto. C'è ancora un passaggio con l'intorno. Perfetto. 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 Perfetto.